Me l'ha raccontata una mia carissima amica che lei aveva un bar tanti anni fa, no? Mentre rientrava a casa verso mezzanotte e luna ha visto come un disco volante in cielo che veramente si è allarmata. Non posso dirvi quanti alieni sono tra noi al momento, se no si attenerà il palco. Che cos'è? È vicino al mio viso. Questo è più alto degli altri. Ha gli occhi più grandi. Sembra guardare nell'eternità. Testa grande, al di un metro e trenta, braccia lunghe, scarne e abbozzate, gambe egui, senza naso, la bocca ridotta a una fessura. Chi sono questi grigi? Ma soprattutto, perché sono qui? E' andato dietro alla montagna. Eccolo, eccolo! Sì, continua a girare. Sì, si sta volando lì sopra. Si è fermato lì. Lì. Può mettere più contrasto per vedere, forse è meglio che... Guarda, guarda come brilla, guarda! Here it is! Here it is! Ecco! Ecco! Ecco lì!